Ciao a tutti, come è promesso questa settimana ci saremo occupati di Blendif. Partiamo dall'immagine della settimana prossima per cercare di capire come funziona questo strumento. Allora, alcune considerazioni iniziali. È uno strumento non troppo difficile, ma che risulta spesso difficile da capire all'inizio. È uno strumento particolarmente potente che io consiglio sempre almeno di provare ad imparare. Per iniziare ad approcciarsi a questo strumento usiamo un metodo oggi un po' differente dal solito che mi è venuto in mente insegnando la mia ora durante il CCC di Marco Livotto qui a Roma. Allora, partiamo da un livello di regolazione soglia. Quello che fa un livello di regolazione soglia, ricordo che anche seguendo qui l'istogramma, ogni immagine suddivisa nei tre canali, si divide in 256 valori o livelli. Questi valori vanno da 0 a 255, cioè sono 256 valori possibili di luminosità. Per cui, punto di soglia, in questo caso siamo a 128. Quello che fa questo livello di regolazione è rendere, come potete vedere, dividere l'immagine in semplicemente due colori solidi, cioè senza nessuna sfumatura, senza nessun tipo di transizione morbida, a seconda di dove sposto lo slider. Per cui, se posiziono il mio slider a 50, ad esempio, tutto quello che è a sinistra del valore 50, cioè compreso tra 0 e 50, diventerà nero. Tutto quello che è compreso tra 50 e 255 diventerà bianco. Se metto il mio slider a 200 o circa 199, tutto quello che è a sinistra, cioè compreso tra 0 e 199, diventerà nero e viceversa. Per questo esempio utilizziamo un metodo di fusione differente, ad esempio scurisci, per vedere quello che succede. Allora, succede che tutto quello che è compreso tra 0 e 106, ad esempio, sta diventando nero. Il resto dell'immagine non viene modificata, ovvero, grazie al metodo di fusione abbiamo trovato un metodo differenziale per visualizzare, quello che succede ogni volta che usiamo un metodo di fusione, una parte di un'immagine o meno, o in questo caso una parte di un livello di regolazione o meno. Perché è così importante? Perché il funzionamento del blendif sostanzialmente è questo. È più complicato e del resto dà molte più possibilità di un livello di regolazione soglia, ma il funzionamento è assolutamente questo. Muovere uno slider per decidere cosa far vedere e cosa non far vedere. Ovviamente possiamo anche impostare il metodo di fusione su schiarisci, invece del nero visualizzeremo il bianco, ma il risultato sarà simile. Ora continuiamo a parlare di blendif. Facciamo un nuovo livello vuoto, modifica, riempi, ad esempio con un grigio al 50%. Per visualizzare tutti i parametri del blendif o fondi se nella versione italiana, doppio clic su quest'area qui del livello. Fondi se è nell'ultimo quadrante, terzo quadrante dall'alto, degli stili di livello. Fondi se abbiamo subito quattro possibilità, grigio, rosso, verde e blu perché siamo in RGB. Questo livello da 0 a 255, livello sottostante da 0 a 255. Andiamo con estrema calma. Dunque, innanzitutto fondi io per il momento lo tradurrei in visualizza. Quindi, diciamo che visualizza se il canale composito o il grigio del livello sottostante, per il momento guardiamo solo questa riga sottostante, è compreso tra 0 e 255. Provo a muovere lo slider e questo è quello che succede. Dunque, traduciamo, ripetiamo, visualizza il livello 1, che è un grigio medio, se il livello sottostante, cioè l'immagine di Cobb, è compresa, ad esempio, tra 88 e 255. Ovvero, tutti i valori più scuri di 88 o non compresi tra 88 e 255 verranno sostituiti con il livello 1, che è un grigio medio. Possiamo infatti vedere che il cielo, le nuvole, la parte più chiara dei palazzi, anche delle macchine, anche della pavimentazione, anche del furgone qui, sono diventate esattamente grigio medio. Mentre le ombre, le parti più colorate, quindi in alcuni casi, in alcuni canali più scure, sono visualizzate dal livello sottostante. Stesso discorso se muovo lo slider di destra invece che quello di sinistra. Ok, esattamente il contrario. Ripetiamo la nostra traduzione. Visualizza il livello 1, cioè il grigio medio, se nel composito il livello sottostante è compreso tra 0 e 127. Cosa è compreso tra 0 e 127? Le parti più scure dell'immagine, in questo caso abbiamo completamente perso le ombre, mentre invece le luci, che erano le parti che prima erano diventate grigie, questa volta restano invariate e sono visualizzate dal livello di sfondo. Aggiungiamo infine, ma lo vediamo in modo più esplicito tra un secondo, che c'è anche la riga superiore che dice questo livello, ovvero, sempre traducendo a modo nostro, visualizza il livello 1 un grigio medio se nel composito questo livello, cioè il livello appunto del grigio medio, è compreso, vedete non succede nulla, giustamente, ok, non succede nulla affinché non supero il punto di grigio medio, che è... siamo quasi, eccolo qui. Se questo livello è compreso tra 129 e 255, non sarà visualizzato, proprio perché il nostro grigio medio che è a 128, possiamo farlo vedere spostando, eccolo qui, verrà tagliato fuori dalle regole che stiamo imponendo. È un po' più difficile da capire, perché in questo caso abbiamo un livello con un colore unico. Adesso facciamo un altro esempio per rendere tutto il più esplicito possibile. Annulliamo, gettiamo via questo livello, ne creiamo un altro vuoto, creo un gradiente di sfumatura orizzontale, che va da nero a bianco. Doppio clic su quest'area del livello, visualizza se questo composito, rivalutiamo, rivediamo che succede esattamente la stessa cosa utilizzando il livello sottostante, ok, solo che invece che sostituire le aree più chiare o più scure a seconda dello slider che muoviamo, stiamo visualizzando questo gradiente di sfumatura. È un po' più interessante vedere cosa succede utilizzando il livello superiore. Ripetiamo, visualizza se, visualizza il livello 1, se nel composito questo livello, cioè questo gradiente di sfumatura, sarà compreso, ad esempio, tra 100 e 255. Qui abbiamo 100 e più avanti abbiamo il bianco, cioè a 255. Questo può essere estremamente utile in alcuni casi, non con un gradiente di sfumatura di questo tipo naturalmente, ma vedremo più avanti qualche applicazione real life e naturalmente vale anche il discorso inverso. Perfetto. Un'ultima piccola nota, naturalmente questi slider si possono, in questo modo, utilizzare in combinazione, creando qualsiasi tipo di effetto, da ok, ma soprattutto si possono mascherare, ad esempio. Per cui, in questo modo, è possibile riuscire ad ottenere qualsiasi effetto desideriamo. doppio clic e naturalmente è sempre modificabile. Un'ultima piccolissima nota. Questi slider, in realtà, sono composti di due piccoli slider che viaggiano in coppia, ma che, tenendo premuto Alt e clic, si possono andare a separare per creare delle transizioni più morbide, sfumate. Vedremo qualche applicazione più avanzata, probabilmente in un video a dicembre, a seconda anche di come reagirete a questo video. Vale la pena anche dire che è possibile invertire gli slide, gli slider, anzi, per creare effetti ancora più complessi, ma per il momento non ci interessa. annulla e gettiamo via questo livello. Dunque, una delle prime applicazioni classiche che possiamo andare a provare a creare in un'immagine come questa, creo un ellisse, ok, inverto la selezione, riempio di bianco e di nero, sfocatura, controllo sfocatura, al massimo, va bene, e vado a sovrapporre. Effetto vignettatura, tagliato decisamente con l'ascia, ma ci serve solo come esempio. In questo caso possiamo decidere di fare che cosa? Possiamo, ad esempio, escludere, dato che il cielo qui risulta forse come effetto un po' troppo drastico, naturalmente questo modo, vedete, è decisamente troppo, per cui lascio lo slider a destra, tengo premuto Alt, ok, e vado a creare un effetto, faccio vedere prima, dopo, più naturale. Stesso discorso può essere fatto, ma non lo trovo abbastanza interessante con lo slider di sinistra. Quello che invece possiamo fare è andare a giocare su questi slider, per andare a recuperare in alcune zone, soprattutto qui, sempre, mi raccomando, sfumando in questi casi, ok, e poi ridurre l'opacità al 50%, prima e dopo. Le applicazioni di questo tipo, soprattutto quelle un po' più complesse, sono assolutamente infinite, getto questo livello, duplico l'immagine originale, ad esempio, e moltiplico. In questo caso posso chiedere al, tramite il Blend If, di mantenere solo questo effetto di moltiplicazione, di moltiplicazione nella parte più luminosa dell'immagine, perché, faccio vedere, recupero dettagli, colore, anche nelle nuvole. Qual è il modo per escludere le ombre a questo punto utilizzando il Blend If? Ragioniamoci un secondo insieme, allora, devo togliere dalla visualizzazione le parti che in questo caso sono diventate nere, per cui, faccio vedere, questo era il prima, questo era il dopo. Questa parte qui sotto, ad esempio, dell'immagine che perde completamente di dettaglio e si schiaccia completamente, è più scura qui o qui? Decisamente qui, nello sfondo copia. Per cui, quello che faccio è andare a lavorare in questo livello e dire di escludere, ad esempio, queste aree in questo modo. Ok? E questo è quello che succede. Naturalmente, è sempre doveroso andare a dire che questo non è uno strumento che risolve tutto come esattamente sta succedendo in questo caso. Perché? Perché innanzitutto bisogna fare i conti con il colore, perché stiamo lavorando in RGB e non è lo spazio migliore dove utilizzare il Blend If. Secondo, perché gli effetti di posterizzazione o di perdita completa del dettaglio, andiamo a vedere cosa è successo qui nel tetto, prima e dopo, prima e dopo. esattamente quello che succede esattamente no, ma molto simile a quello che succede quando si fa un inverted overlay e si inverte una sovrapposizione prima della sfocatura. Quindi, non ci interessa utilizzare questo effetto in RGB, ma ci interessa molto provare ad usarlo in Lab. Perché? Perché la struttura dei canali nel Lab, luminosità A e B ci permette, come abbiamo sempre ripetuto, di avere dei canali in cui le informazioni di luminosità e le informazioni sul colore sono completamente distinte. Per cui, la luminosità è un canale simile a quello su cui abbiamo lavorato in RGB, vedete che è tutto estremamente definito anche nel tetto, mentre invece nell'A e nella B distinzioni di questo tipo non ci sono. Per cui, se volessimo ad esempio mantenere come stavamo facendo prima la moltiplicazione solo nel cielo, dobbiamo semplicemente fare doppio clic. Non lavoriamo più sul composito, ma lavoriamo ad esempio nella B. Andiamo a rivedere un secondo per ricordarci com'era. Vedete quanto è più scura rispetto al resto dell'immagine. Per cui, quello che voglio fare è dire visualizza questo sfondo copia, cioè questa immagine moltiplicata, solo se nel canale della B questo livello è nella parte più scura, per cui lentamente porto lo slider di destra verso sinistra fino a togliere la visualizzazione, ecco, fino a qui. Alt, mi raccomando, sempre una divisione, una transizione più morbida, ok, prima e dopo, prima e dopo, 50%, e abbiamo ottenuto un effetto, abbiamo ottenuto l'effetto desiderato. Vi ricordo sempre che il vero vantaggio del Blendif è riuscire ad utilizzare una, due, tre, quattro coppie di slider in uno, due, tre canali differenti. Ad esempio, ho scelto di escludere tutta la parte del canale B positiva ma potrei anche decidere di escludere i verdi o piuttosto i magenta da quello che ho fatto in questa moltiplicazione. Adesso andiamo a vedere i vostri risultati di Redmob e poi vediamo se e quanto si può usare uno strumento del genere in un'immagine anche molto complicata come quella.